Musica Dalle primarie del centro-sinistra quelle ipotetiche del centro-destra, da Grillo a Crozza, ad un possibile, ma per ora poco probabile, ritorno del Bagaglino sui palchi italiani. E un Pierfrancesco pingitore a tutto tondo, quello che oggi, ospite dei dibattiti a Dinecronos al Palazzo dell'Informazione, ha fatto insieme ai giornalisti in studio un excursus sull'esperienza del Bagaglino, che ha raccontato nel suo ultimo libro, Memorie dal Bagaglino, diario intimo di un cabaret. Un'esperienza, a suo parere, in questo momento non ripetibile. Quello che noi abbiamo fatto, oggi sarebbe più difficile farlo, perché c'è una forma di autocabaret che la politica ha intrapreso in questi ultimi 12 mesi, diciamo. Molte le prime donne citate nel libro e tra queste un ricordo particolare va a Gabriella Ferri. Gabriella, per esempio, che certamente era una grandissima artista, di cui siamo tutti fieri e alla quale siamo anche teneramente attaccati. Gabriella aveva una capacità di drammatizzare tutto quello che cantava, di dargli un'impronta personalissima di asprezza e di disperazione e di tenerezza insieme. Molti anche gli aneddoti raccontati, come quando Jacqueline Kennedy non riuscì ad entrare perché la sala era troppo piccola. Quella è una delle poche leggende metropolitane vere, nel senso che effettivamente dall'ambasciata telefonarono una sera per prenotare quattro posti alla signora Kennedy. E c'era la segretaria che prendeva le prenotazioni perché non c'era un computer, non c'era niente. E c'era un mare di richieste perché si era appunto diffusa questa voce, disse non c'è posto e accolta il telefono. Pingitore dice di avere ancora tanti progetti per il futuro e mette per ora solo un punto su una bellissima esperienza che resterà nella storia della TV.